Oggi presentiamo un dossier dettagliato sulle liste d'attesa della AS di Pescara dopo aver preso i dati dal portare trasparenza del Ministero della Salute. Ne è venuto fuori un quadro raccapricciante e impietoso. Parliamo delle prestazioni sanitarie in classe di priorità P programmata, che sono quelle più numerose. Ebbene, il focus su questa classe ci fa vincere un qualcosa di veramente vergognoso. Immaginate che le prestazioni in classe P programmata devono essere erogate massimo entro 120 giorni, quindi 4 mesi dalla data di richiesta dell'utente. Ebbene, noi abbiamo visto qualcosa di allucinante. Solamente tra il 20 e il 40% delle prestazioni richieste rispettano i termini. Tutti gli altri stanno molto molto superiori. Addirittura raggiungiamo un anno, un anno e mezzo dalla richiesta della prestazione. Facciamo anche un esempio. L'Ecolcolodoppler degli arti inferiori, un anno di attesa. La prima visita endocrinologica, un anno di attesa. La colonoscopia totale, un anno di attesa. Abbiamo l'Ecolcolodoppler degli tronchi sovraortici, un anno di attesa. La diagnostica della testa del collo, un anno di attesa. La prima visita oncologica, immaginate, un anno di attesa. Allora, tutte queste visite che dovrebbero rientrare massimo in 4 mesi dalla richiesta, si fanno a un anno, anche a più di un anno. Voi immaginate quanti pazienti potevano salvarsi, recuperarsi, invece si ammalano di più e poi possono anche morire. E quante persone, perché qui rientra anche la prevenzione, potevano far prevenzione, potevano scoprire magari qualche patologia grave, dopo un anno non c'è più tempo per intervenire. Allora, alla luce di tutto questo, noi chiediamo a chi governa la regione. Ecco, questo è tra l'altro un disastro, perché poi i cittadini sono costretti a fare che cosa? O a rinunciare alle cure, e quindi un dramma, o ad andare fuori regione a curarsi. Quindi incremento la mobilità passiva, iniziano quei viaggi della speranza. Questo è il fallimento della sanità regionale, targato a centrodestra, quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché ricordiamo la sanità è governata dalla regione. In regione governi il centrodestra, e quindi subito la mia denuncia richiesta al presidente di regione Marsiglio, all'assessore regionale Verì, di fare subito, fare presto, invertire la rotta e abbattere le liste d'attesa, tanto più che sono arrivati 10 milioni di euro dal governo proprio per l'abbattimento delle liste d'attesa, e vorremmo sapere che cosa ci stanno facendo. Altrimenti sarà veramente un inferno per i cittadini abruzzesi, i cittadini abruzzesi meritano di più.